Ben ritrovati di nuovo su Review New. Oggi vado a recensire questo cuscino pensato appositamente per chi ha problemi alla cerebricale. Devo dirvi che è stato un acquisto uno dei migliori di quest'anno che ho effettuato. Non costa pochissimo perché parliamo di un prezzo di circa 40-50 euro. Vi lascio il link in descrizione di questo modello specifico che vedete nel video. Ci sono diversi modelli. La marca Elviros l'ho acquistato su Amazon e il colore è grigio. Allora le dimensioni dovrebbero essere 64x12,5. Ci finiamo di quello che c'è scritto sul sito ma ero già andato a misurarle all'epoca e quindi dovrebbero essere effettivamente le seguenti. Com'è fatto? Innanzitutto è morbido. Ci sono diverse misure poi quindi c'è anche una misura un po' più grande 70x42 anche più piccolina. Io ho scelto anche 53 cm. Io ho scelto quella un po' più larga per appunto potermi muovere comodamente in libertà. Ma cos'è che lo caratterizza? Innanzitutto come vedete c'è una parte forse così rende di più una parte forata se vogliamo dire così dove appunto appoggiate la vostra testa. Successivamente avete questo spazio qua che vi permette di posizionare il collo. Quindi qua avete il vostro collo, la vostra testa che scende appunto in questo modo e se dormite con la faccia all'insù vi permette di dormire veramente comodamente. È morbidissimo, si adatta. Andiamo poi a vedere anche le caratteristiche perché come materiale abbiamo una schiuma in memory e abbiamo poi due alette come vedete in questo modo che vi permettono di andare a posizionare le braccia quando dormite, se dormite a pancia in giù in questo modo qua. Quindi potete usarlo benissimo se dormite a pancia in giù oppure a pancia in su e anche di lato. Appoggiate la testa qua. Ci mettete al di sopra ovviamente una federa senza che sia troppo costretta, quindi che lascia appunto la testa a posizionarvi correttamente e poi se volete lavarlo potete anche togliere la federa che c'è, che tra l'altro è traspirante, la togliete e potete lavarla. Vi vado a mostrare com'è all'interno, vedete? È un prodotto davvero davvero bello, si vede che è di qualità e io devo dire che ormai non riesco più a dormire con un coscino normale, anche quando dormo fuori casa si sente la differenza, non ho più dolore della cervicale e quindi ne vale davvero il prezzo che ho pagato. Link in descrizione di questo modello con queste misure che avete visto, se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela. Alla prossima review!